Nonostante i passi in avanti del governo sul ponte sullo stretto, restano numerosi dubbi che circondano l'opera della quale si discute ormai da decenni, dai costi di realizzazione fino alla situazione sismica dell'area dello stretto. Adesso Sicilia e Calabria realizzeranno insieme lo studio geologico dell'area di 649 km2 che sarà interessata alla costruzione del ponte, stipulate infatti una convenzione tra la presidenza della regione siciliana attraverso l'autorità di Bacino e la regione Calabria attraverso il Dipartimento Politica della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo. La realizzazione della Carta Geologica Nazionale, il cosiddetto Foglio Messina Villa San Giovanni, è finanziata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione alla Ricerca Ambientale, con la somma di 650.000 euro che sarà destinata alle Università di Palermo, Catania e della Calabria. Il documento costituirà un elemento di estrema importanza nella fase preliminare della realizzazione del ponte in relazione soprattutto alla situazione sismica dell'area dello stretto. Il documento, che costituisce il completamento dello studio dopo quello denominato Messina-Reggio Calabria riguardante la zona attiva, esaminerà tanto l'area terrestre per 164 km2 quanto quella marina per 485 km2.